che vengono montati sulle biciclette di oggi, intanto Roche in prima posizione e qui adesso il campione del mondo. E sono rimasti una cinquantina a comporre il gruppo principale, abbiamo visto nelle prime posizioni c'era anche Ivan Basso con Quintana con Ivan Santaromita, lui è il nuovo campione italiano, abbiamo visto anche Valverde. Tutti nelle prime posizioni, c'è anche Giovanni Visconti, tutti della Movistar, la squadra più forte dell'otto. E a proposito di Movistar, adesso il primo piano è proprio per il campione del mondo, per Rui Costa. Il Bivio, siamo intanto nelle retrovie con tanti corridori che si sono staccati. Questi sono gli uomini che hanno perso contatto, per loro deve ancora cominciare il muro. Abbiamo visto anche Arnaud Courteille della FDG. E si siamo, è cominciato il muro di Sormano. Eccoci qua in uno dei tratti in assoluto più spettacolari della Lombardia, perché questo è uno strappo, è un muro vero e proprio, lungo poco meno di 2000 metri. Mancano ancora tanti chilometri alla conclusione, 83 però insomma qua possono succedere delle cose importantissime poi in quello che vedremo da qui alla fine del Lombardia. Quei numeri che vedete sulla destra, adesso sulla sinistra, è l'altitudine. Guardate come sono a breve distanza questi numeri, proprio perché la pendenza è davvero quasi impossibile. Sempre Roche davanti, Saxo Tinkov. Praticamente questo muro comincia a quota 820 e c'è lo scollinamento poi in cima alla colma di Sormano a quota 1124. Il tutto in due chilometri scarsi. L'ultimo chilometro è davvero terribile, tanto questi corridori si sono già irrimediabilmente staccati e c'è anche Benedetti. Lo vedete con il numero 221, Cesare Benedetti, la sua squadra è la NetApp Endura, faceva parte della fuga iniziale. Questo è il video. Per loro sta cominciando adesso il muro di Sormano. Intanto la media oraria dopo 4 ore di corsa, 39.600. Sempre la Saxo Tinkov con Michael Rogers in prima posizione. Gruppo che si sta ulteriormente assottigliando sulla destra, maglia verde della Cannondale, avete visto anche Ivan Basso. Fra l'altro questa è la prima volta che c'è una sfida diretta tra Basso e Contador. Non si erano mai incontrati quest'anno, prima sfida, con Quintana sempre lì davanti. Passo, l'abbiamo detto, sulla sinistra lo vediamo con la maglia verde della Cannondale. Si mantiene intorno alla decima posizione Alberto Luicosta, il campione del mondo appena più avanti rispetto alla portoghese. Vedete anche con la maglia di campione nazionale italiano Ivan Santaromita. È un muro durissimo, però bisogna anche considerare il fatto che il campione della montagna è a 82 chilometri dall'arrivo e quindi di chilometri ne mancano ancora tanti. C'è una discesa molto insidiosa, ci furono anche diverse cadute lo scorso anno, dopo la discesa un tratto pianeggiante prima di affrontare la salita del Ghisallo. Fra l'altro si vede, Davide, quanto sia impressionante questa salita, perché ci ricordavi che in terra sull'asfalto, che è stato rifatto da poco, sono state scritte anche le differenze di altitudine. Quanto siano vicine questi campi? Si avvicinano sempre di più perché ad un certo punto la pendenza è ben superiore al 20%, quindi per fare dislivello impiegano poco. Quintana sempre in terza posizione, Rogers, l'australiano della Saxo Tinko, vintesta. Sull'asfalto sono state scritte anche alcuni dei pensieri, dei grandi del passato, abbiamo detto di Ercole Baldini. C'è anche una scritta di Gino Bartali che diceva che un passista non ha alternative, deve arrivare ai piedi del muro con almeno 10 minuti di vantaggio, così poi se lo fa a piedi impiegando un quarto d'ora in più di quelli che lo faranno in bicicletta, arriverà in cima con 5-6 minuti di ritardo e potrà ancora sperare. Nel 1960 passò primo Imerio Massignan che impiegò 10 minuti e 9 secondi. Nel 61 il muro venne riproposto, la corsa se la giudicò un giovane abruzzese di 21 anni, Vito Taccone. Lui e Massignan transitarono in testa sul muro. Nel 62 invece transitò primo Trappè, ma fu di Baldini in miglior tempo aiutato anche da qualche spinta. La corsa la vinse un olandese, Johanna De Roo. Terzo arrivò il Cide Cerato, secondo Livio Trappè. Sono sempre gli uomini della Saxo Tinkov nelle prime posizioni del gruppo. Abbiamo visto pedalare intorno alla decima posizione anche Daniel Martin. Vincitore quest'anno con una splendida azione iniziata da Ryder Esiedal, fecero una cosa eccezionale i due della Garmin. Vincitore quest'anno Daniel Martin della Liegi Mastro Liegi. Uno dei tanti che ha deluso domenica scorsa al Mondiale di Firenze. Non sappiamo se per colpa di uno accaduto o quant'altro sta di fatto che Daniel Martin doveva essere uno dei favoriti, ma è mancato. Ecco, questo è uno dei tratti più difficili. La difficoltà dei corridori, quasi tutti sui pedali, tra l'altro con l'asfalto bagnato c'è anche il rischio che slitti la ruota posteriore. Quindi anche il peso deve essere bilanciato per fare in modo di avere piena trazione. Per fortuna oggi si trovano l'asfalto umido e può essere ancora più pericoloso che l'asfalto quando è veramente bagnato. Per fortuna dei corridori oggi, se non altro, non sta piovendo. Per il momento no, quindi questo è un piccolo vantaggio, ma ripeto, rispetto a 50 anni fa adesso, la possibilità di montare rapporti da mountain bike addirittura il 29. Qui c'è il rischio anche per le macchine di bruciare la frizione. Non so, perché secondo me le ammiraglie non vengono deviate. Esatto, il percorso delle ammiraglie è stato deviato anche perché qua, nel caso un corridore avesse bisogno anche di assistenza meccanica, comunque anche volendo non vedo come potrebbe intervenire l'ammiraglie. Intanto le scritte sono sempre più difficili. Quindi tornante per lo più preso molto molto largo, proprio per cercare di evitare quelle pendenze impossibili che sono proprio all'interno della tornante. Sono quattro i tornanti che accompagnano i corridori verso questa micidiale salita. E c'è Quintana al comando, Valverde in terza posizione, c'è anche Pozzo Vivo lì davanti. Adesso è cambiata la situazione in testa alla gruppo, proprio con Nairo Quintana, che è rimasto chiaramente in Italia in questa settimana, era stato raggiunto dai genitori e dalla fidanzata alla vigilia del Mondiale di Firenze, è rimasto in Italia proprio per preparare questo giro di Lombardia. Così come ha anticipato l'arrivo in Italia Rui Costa, il campione del mondo, due giorni fa in ricognizione, proprio per visionare questo muro che lui non conosceva. L'aveva già fatto, sì, l'anno scorso, però insomma con la maglia di campione del mondo era chiaramente tutta un'altra cosa, ma soprattutto la Movistar ha voluto accompagnare Valverde su questo muro di Solmano, perché per Valverde veramente era inedito. Mai visto, intanto Maika della Saxo Tinkov, è lui il corridore in seconda posizione, compagno di squadra di Alberto Contadora. Dietro a Maika ci sono i due italiani, Santa Romita e Pozzo Vivo. Siamo quasi in cima, sempre con Quintana, Valverde, poi Purito Rodriguez, avete visto sulla sinistra, maglia a scacchi della GEDESER, anche Domenico Pozzo Vivo, intanto gruppo che si è ulteriormente assottigliato, perché adesso, almeno nella prima parte, poi probabilmente ci sarà la possibilità per qualcuno di rientrare, però adesso sono rimasti una quarantina di corridori, Davide. Non di più, nessun attacco, nessun allungo, anche perché basta vedere in sovrimpressione i chilometri che mancano, più di 82, anche perché poi dopo questo muro c'è una discesa molto, molto tecnica. Sempre con Quintana, che adesso sta facendo il ritmo, passato alla comando, dopo che la prima parte di questo muro l'avevano condotta in testa gli uomini della Saxo Tinko, adesso è il colombiano della Movistar, poi alle sue spalle, vedete Maika con Pozzo Vivo, con Valverde e con Flecia. Sì, c'è anche Juan Antonio Flecia. Adesso è in quarta posizione, proprio alla fianco di Valverde. Poi Rodriguez con Basso, con Santa Romita. Siamo in cima, ancora a 100 metri. E Quintana transiterà il Gran Premio della Montagna, Valverde, c'è anche Joachim Rodriguez. C'è Pellizzotti, poi Dani Moreno, con Cunego, con Visconti, che va a chiudere questa prima parte della gruppo. C'è anche Thibaut Pinot, questo è Vecler. Rogers, e c'è anche Cataldo con la maglia nera del Team Sky. È terminato il muro di Sormano, non mi sembra di aver visto Contador nelle mie parti del gruppo. Io non l'ho visto. C'è adesso il campione del mondo, un po' in ritardo. Ha perso contatto, ha perso contatto. Roche. Questa è Nicola Roche. Ha perso contatto Alberto Rui Costa. Vanenter. Vizioso. Sella. Van Averma. Ecco anche Van Averma. Ed eccolo qua Contadorra, eccolo qua che spunta. Adesso Alberto Contadorra, che ha perso sensibilmente contatto dalla prima parte del gruppo. Adesso ci sarà chiaramente la possibilità per Contadorra di rientrare. Mori. Rui Costa in cima al muro di Sormano. È transitato con un ritardo di 32 secondi. 32 secondi il ritardo di Alberto Rui Costa. 55 secondi invece quello di Alberto Contadorra. Che adesso avrà sì la possibilità di rientrare Davide. Però anche questo per Contadorra, come lo era stato in maniera anche più evidente, lo abbiamo detto poco fa, per Rigoberto Uran, non è certo un bel segnale. Bruttissimo segnale. Anche Winning transita adesso. Cunego. Poi arriva anche Nao. Frank. Questi corridori difficilmente potranno rientrare. E dunque Cunego, che aveva cercato l'attacco, era stato uno degli iniziatori, fra l'altro, dell'attacco che ha caratterizzato la prima parte di questa edizione, numero 107 della Lombardia, difficilmente, difficilmente anche lui potrà rientrare. Anche perché è transitato con un minuto e 50 secondi. I 30 secondi, arrotondiamo, i 30 secondi di Ruicosta, i 55 secondi di Contadorra, ancora ancora possono essere recuperati. È una situazione alla quale si può rimediare. 1,50 per Cunego cambia profondamente il discorso. Difficile. Intanto Burghardt. Anacona. Arriva anche Sorensen. E dunque altre sorprese, ancora sorprese e mancano ancora 79 chilometri alla conclusione. Lo scollinamento, quando eravamo a meno 82 dal traguardo di Lecco. Dunque altri colpi di scena. La difficoltà di Ruicosta, la difficoltà di Contadorra, i quasi due minuti di ritardo di Damiano Cunego. E dopo aver seguito, non abbiamo perso neppure una pedalata.